Nel viaggio verso Bergen-Obsom fui molto colpita dalle belle e popolose città fiamminghe. La fila di case di mattoni coronate da graziosi tetti orlati mi ricordò le illustrazioni del libro di preghiere che Maria di Borgogna aveva regalato a mia madre. I tetti delle fattorie erano invece di paglia molto fitta con i bordi rasati si vedeva dappertutto gente occupata a lavorare i campi o affannata nelle panetterie o nei negozi si respirava un'atmosfera molto diversa da quella della nostra castiglia pastorale e povera. La famiglia del ciambellano Jean de Berges mi ricevette con grande affetto e riservò a me e alle mie dame stanze finemente arredate con grandi arazzi di colori brillanti. Dopo il viaggio per mare quei giorni mi concessero un riposo senza il quale non so come sarei sopravvissuta il mese seguente. Durante il battesimo teni tra le braccia la bambina che chiamarono Jean in mio onore. Dopo pochi giorni lasciamo Bergen per Ambersa dove arrivamo il 19 settembre. La gente mi accoglieva dovunque con grandi dimostrazioni di giubilo e di curiosità alle quali rispondevo con sorrisi e saluti mentre attraversavo le strade principali con il mio seguito. Le mie dame ed io cavalcavamo alla maniera spagnola di traverso su selle di cuoio modellate a sbalzo. Portavamo mantiglie e pettennature tradizionali sui colori oro e carminio dei nostri vestiti più lussuosi. Ci accompagnava un numeroso corteo di trombettieri e di vessilliferi che annunciavano con grande clamore il nostro passaggio. Questi cortei all'usanza castigliana, che qui includevano mangiafuoco, buffoni e ogni sorta di intrattenitori, intendevano farmi conoscere e dimostrare con il loro splendore l'importanza dell'unione di una rampolla tanto nobile e illustre con Filippo. La gente semplice di questi luoghi, dal volto rubicondo e dalla pelle sottile arrossata, mostrava al nostro passaggio un'evidente ammirazione, esprimendo con sorrisi e applausi ciò che non riusciva a dire a parole. Il popolo fiammingo si distingueva per l'allegria e la sicurezza di sé. Uomini e donne si trattavano con grande familiarità, senza il formalismo e la riservatezza comune a molti in Castiglia. Le ragazze ballavano al suono dei tamburelli, sollevando le gonne e ne vidi più di una affacciarsi alla finestra di qualche taverna con un boccale di birra in mano. Don Luis de Osorio, il mio confessore, mi faceva ridere perché si scandalizzava molto per i costumi di questa gente. Si faceva di nascosto il segno della croce e mi guardava come per assicurarsi che io fossi d'accordo con lui nel giudicare riprovevole e licenzioso quel modo di comportarsi. Lo spirito disinvolto e l'entusiasmo dei fiamminghi, al contrario, mi contagiarono e sebbene durante i ricevimenti di nostro onore non fossero mancate le occasioni in cui avevo percepito chiaramente la volontà di sottolineare la nostra inesperienza in fatto di cerimoniali borgognoni, come se nelle nobili corti delle più importanti città sperassero di divertirsi con la nostra ignoranza, non me la presi a male. Mi sembrò tipico di quello spirito irriverente, vivace e gioviale che mi aveva sorpresa tanto piacevolmente nei miei futuri sudditi. Mi sentivo leggera e felice. I complimenti che ricevevo dovunque, più che insuperbirmi, mi facevano sentire gradita e desiderosa di essere una sovrana che sarebbero riusciti ad amare veramente. A mano a mano che i giorni passavano e comprendevo meglio il fiammingo, o quando udivo invidiare, in latino, la mia sorte perché sposavo un principe tanto bello, coraggioso, buon cavaliere, con un invidiabile amore per la vita, La tristezza e il turbamento iniziali per la separazione dai miei genitori e da tutto ciò che conoscevo furono sostituiti da un immenso desiderio di gustare quella nuova vita e di essere l'incantevole principessa straniera che avrebbe fatto felice l'arciduca Filippo. Cominciava a far freddo. Ad anversa, nonostante il sontuoso ricevimento che ci avevano offerto, la fortuna non ci sorrise. Fui colpita da una forte febbre che mi fece delirare e mi lasciò con il corpo dolorante e in balia del timore che il ritardo del mio futuro marito nell'incontrarmi fosse provocato, come mi era stato suggerito, dall'intenzione di umiliare la corona spagnola. La verità, che io allora iniziavo appena a intuire, si poteva cercare nell'infanzia del mio promesso sposo. Dopo la morte della madre, in un incidente a cavallo, quando lui era ancora un bambino, il padre lo aveva affidato alla tutela di nobili fiamminghi e belgi che lo avevano orientato decisamente verso un'alleanza con la Francia. Mentre loro governavano le province, lui veniva distratto da feste, battute di caccia e banchetti. Ora che era un uomo, il padre tentava di liberarlo dalle influenze e di guidarlo verso una politica di difesa e di buona amministrazione degli interessi della Germania. E proprio perché era stato forzato a esercitare la reggenza del Parlamento tedesco all'Indau, Filippo non era nel porto ad attendere il mio arrivo. A me, comunque, quell'assenza era apparsa inspiegabile. Quando mi ammalai, dopo giorni di allegri festeggiamenti, mentre me ne stavo a letto con la febbre, la gioia di trovarmi in un paese libero dalle ombre e dalla rigidità del mio scomparve subito. E ad aggravare la mia malinconia, giunsero la morte inaspettata di Don Luiste Osorio, il mio confessore, e le notizie allarmanti d'Arne e Muiden. Abbandonati alla loro sorte, migliaia di soldati e di marinai che aspettavano di accompagnare Margherita in Spagna soffrivano per la fame, il freddo e le febbri. La morte li stava già decimando. Impaziente e contrariata, dettai a Don Fadrique una lettera per il mio promesso sollecitando un incontro nel monastero di Lier, dove mi trasferì. La madre badessa, Maria de Soasson, mi offrì ospitalità, grazie a Donna Maria di Borgogna, che era sempre rimasta al mio fianco. Filippo arrivò la sera del 12 ottobre, sporco e bagnato, dopo aver viaggiato senza sosta per diversi giorni. La badessa gli fece preparare una grande stanza, con un bel fuoco per asciugare i vestiti, cibo e bevande. Alla notizia dell'arrivo dell'arciduca, il monastero si era trasformato in un luogo di affanni e di mormorì. La presenza maschile sembrava aver risvegliato nelle donne lirinchiuse chissà quali ricordi o visioni proibite. La badessa conosceva le cose del mondo, perché quando era entrata in convento aveva appena perso il marito e dopo essersi occupata di Filippo venne da me per assicurarsi che le mie dame mi sistemassero e acconciassero per rendermi attraente agli occhi del mio fidanzato. Per fortuna io mi ero rimessa dalla malattia e l'eccitazione che permeava l'atmosfera scosse i residui di malinconia che ancora mi affliggevano. Mi proposi di mostrarmi davanti a Filippo come mi presentavo davanti a lui nei miei sogni, una creatura raggiante. Perciò scelsi un abito color granato, con la scollatura quadrata e le maniche ampie. Non volevo lusingarlo agghindandomi eccessivamente, al collo misi il rubino che mia madre mi aveva regalato per il mio fidanzamento e lasciai i capelli sciolti. Rifiutai il verdugale, cosicché il velluto cadendo sui fianchi allungasse la mia figura. In piedi, davanti allo specchio, indovinai negli occhi delle mie dame le fantasie che attraversavano la loro mente accesa dall'aspettativa della storia d'amore. Dentro di me, invece, si accavallavano pensieri contraddittori che contemplavano felicità ma anche rovina. Dio mi era testimone che poteva accadere qualsiasi cosa. Se Filippo non mi fosse piaciuto, mi aspettavano anni di sofferenza. Pregai con fervore, in silenzio, perché quell'uomo trovasse il modo di toccare il mio cuore. Divertita per la mia agitazione, Beatrice de Bobadilla mi porse il flaconcino con la pozione che la Galindo mi aveva fatto assumere l'ultima volta che avevamo cenato con mia madre. Ora dovevo studiare il sistema di somministrarla al mio futuro consorte, disse Allegra. Infilai la fiala nel corpetto e, finalmente, accompagnata dalla madre Badessa, da Beatrice, da Don Fadriche e da Donna Maria di Borgogna, mi diressi verso la sala dove l'arciduca stava aspettando. La luce della luna filtrava, attraverso le vetrate istoriate, disegnando sul pavimento del corridoio buio e freddo del monastero i rami dei pini del giardino mossi dal vento e dalla pioggia incessante. Strinsi il mantello al petto e così, coperta e intirezzita, vidi per la prima volta Filippo. Prima che i miei occhi lo distinguessero chiaramente, notai i suoi che mi fissavano nella macchia azzurra degli abiti, come se lo sguardo fosse un'entità senza corpo che mi catturava avvolgendomi con un nastro di seta allegro e curioso. A poco a poco lo sguardo acquisì capelli e guance, collo e lunghe mani. Era più alto di me, snello, biondo, prestante, ma niente di tutto ciò pareva più importante del fluido che scorreva da lui a me, della complicità con cui mi trasmise i suoi dubbi e il suo sollievo. Ricchiamai alla mente le tante immagini che entrambi avevamo intessuto e prefigurato in vista di quell'incontro. Entrambi avremmo comunque affrontato il nostro destino, qualunque fosse l'impressione reciproca. Ma guardarci e riconoscere che non ci spiacevamo per niente scatenò in noi un'euforica complicità. Coscienti di quanto poco fossimo intervenuti negli ingranaggi delle nostre vite, ci scambiamo senza parole la certezza che insieme avremmo scoperto nuovi modi di usare la libertà che il matrimonio ci avrebbe concesso. La facilità con cui i nostri silenzi si collegarono bastò a convincerci che ci eravamo innamorati a prima vista. Stavo per chinarmi nell'abituale reverenza quando lui me lo impedì, prendendomi per mano e conducendomi con un sorriso verso il cammino e là mi fece cegno di prendere posto lontano dai nostri accompagnatori. Apprezzai il fatto che si comportasse davanti agli altri con la padronanza di sé che per noi donne è difficile da assumere. Avevamo appena scambiato qualche parola che chiese alla badessa, ai membri della sua corte e della mia, che ci lasciassero soli. Già che avremmo passato la vita insieme era giusto che cominciassimo a conoscerci. Rimasti soli, la mia determinazione a rimproverarlo del suo ritardo fu totalmente vinta da un calore nel petto che mi salì fino agli occhi, dandomi una sorta di smarrimento in cui il pianto si confondeva con un fondo di risa e di sollievo. Non sapevo come dissimulare emozioni tanto poco appropriate al momento e mi coprì il volto con le mani, lottando per ricompormi. Lui si inginocchiò al mio fianco, ansioso. Gli dissi che non doveva preoccuparsi. Ero solo stanca dopo tanti giorni di viaggio, ma contenta di vedere che dopo tutto non avrei dovuto maledire il mio destino. Prese il suo fazzoletto, mi asciugò le lacrime. Credo che non fossero trascorsi neanche cinque minuti quando mi abbracciò e mi diede il primo bacio sulla bocca. Aveva labbra sottili, ma la sua lingua sembrava una piccola lancia che frugava tra le mie. Aveva bevuto birra perché ricordo il sapore di malto e il calore che dalla sua lingua passò alla mia e scese per la gola come un fiotto ardente, liberando dentro di me un corpo che fino ad allora ignoravo di possedere. Mi separai da lui per prendere fiato. I suoi occhi azzurri erano tanto vicini che sembravano una luna appesa sulla sua fronte. Mi sfiorò le guance e io toccai le sue che erano ora molto rosse e calde. Senza aggiungere altro, mi prese la mano e se la portò tra le gambe sotto il farsetto azzurro. Lì sentì un grappolo di uva turgida e lo palpai per capire perché in realtà non conoscevo l'anatomia maschile. Mentre io esploravo, Filippo sondava le mie clavicole e la sua bocca, lasciando una traccia umida, mordeva quanto del mio seno sporgeva dalla scollatura. In quel momento mi ricordai della fiala che portavo nascosta nel corsetto e l'idea che la trovasse mi fece tornare immediatamente nell'altro corpo, che non conosceva quelle reazioni appassionate. Allontanai la mano. «Vi prego di trattenervi, signore», gli dissi. «Dovremo essere pazienti e aspettare che questa unione sia benedetta», aggiunsi, lisciandomi la gonna, il corpetto e i capelli e alzandomi. «Faccio quello che ci si ordina di fare», replicò lui con malizia e con un sorriso che non potei fare a meno di imitare. Andò verso il tavolo, beve un lungo sorso di birra. Mi sorrise di nuovo e aggiunse, «Dato che vi ho già vista, non vedo alcun impedimento a che voi e io decidiamo di eseguire gli ordini. Ve lo dimostrerò in questo momento». Si diresse alla porta senza esitazione, come entrambi supponevamo i nostri accompagnatori erano là e di sicuro avevano tentato di ascoltare la nostra conversazione. Filippo diede ordine al gran maggiordomo di chiamare la madre Badessa. Quando lei arrivò, rimase sbalordita nell'udire che le chiedeva l'autorizzazione perché la cerimonia di nozze venisse celebrata immediatamente. «La principessa e io abbiamo già perduto un mese intero e vorremmo passare insieme questa notte», disse adottando una posa solenne, senza che il suo volto desse spazio alla minima possibilità di essere contraddetto. Mi sedetti con lo sguardo fisso al riflesso delle candele sul velluto della mia gonna. Nonostante la vergogna che mi aveva invasa per essere tanto disponibile a partecipare al gioco, nonostante temessi che Don Fadriche e Beatrice pensassero che avevo perso il senno, ogni volta che sollevavo lo sguardo e guardavo con la coda dell'occhio la schiena di Filippo, mi sentivo felice che mi fosse capitato insorto un uomo come lui. Non avrei potuto chiedere alla vita niente di più drammatico e nobile di una simile scena. I cortigiani entravano e uscivano, il suo maggiordomo e il mio si scambiavano sussurri in un angolo. La badessa era uscita per cercare Don Diego Ramirez di Viglie Scusa, il mio primo cappellano, che arrivò sollecitamente e si avvicinò per sussurarmi all'orecchio «E' quello che volete, altezza?» Abbassai lo sguardo con finta modestia, nascondendo il sorriso e il batticuore. «A secondo volentieri le decisioni del mio promesso sposo, e concordo sul fatto che se sono venuta per sposarmi, tanto vale che non rimandiamo a quello che ci è stato ordinato di fare». Sussurrai, sostenendo lo sguardo compiaciuto di Filippo, che, a differenza di me, non si preoccupava affatto di nascondere quanto si stesse divertendo. Il ricordo di quella cerimonia improvvisata, unito a quello del cammino accanto al quale Filippo mi aveva baciata per la prima volta, continuava ad essere presente nella mia memoria. Furono accese candele, portate all'occorrenza, e davanti al tavolo rustico del parlatorio dell'abbazia, mentre la pioggia raffreddava la notte, Don Diego ci sposò alla presenza dei più vicini membri del nostro seguito. Le ombre dei presenti si allungavano sulle pareti grigie della stanza. Vedi il profilo delle mie mani tra quelle di Filippo, snelle e fini come le mie, proiettarsi come becchi di cicogna sopra la testa del sacerdote. Senza aver bevuto la fiala che conservavo ancora nel mio corpetto, il mio promesso sembrava essersi innamorato di me. Mi guardava, con incredula felicità, con adorazione, come se quello che succedeva fosse il culmine di una cosa a lungo desiderata. Io ricambiavo, stupita del suo stupore. La possibilità dell'amore ci aveva fatto innamorare. Mia madre aveva intuito giustamente che, essendo giovani, saremmo stati come la terra fertile. Pensai a lei, mentre il sacerdote ci benediceva. Non avrebbe approvato una simile precipitazione. Le sue nozze, comunque, non erano state tanto diverse. Scoprire il piacere fece sì che mettessi in discussione tutto ciò che nella vita mi era sembrato certo. Le sensazioni provate a letto avevano poco a che vedere con il peccato e la punizione o con le pene annunciate per chi trasgrediva il sesto e il nono comandamento. Non so che cosa avrebbero pensato le monache se mi avessero sentita, perché Filippo mi incitò a gemere e a mugolare liberamente, lui ululò e gridò e tutti e due ridemmo a crepapelle della nostra spudoratezza. Stentavo a credere di essere la stessa persona del giorno prima. Nel giro di poche ore non era rimasto più nulla del mio pudore e della mia riservatezza. Mi ero abbandonata talmente volentieri al piacere e al divertimento che mi si sarebbe potuta prendere per la figlia di una cortigiana e non di una regina tanto cattolica come Isabella, mia madre. Il mattino dopo, a letto, nudo, con le gambe accavallate, Filippo mi parlò della vita che mi aspettava nelle fiandre. La bellezza, mi disse, era il privilegio più alto del potere e nella sua patria avrei dimenticato la ristrettezza della mentalità spagnola. Ti hanno mandato da me circondata da preti, spie, soldati, dame, rigide e austere. Ma qui, lo hai già visto, il paesaggio è dolce, pianeggiante, nebbioso e ricco di vegetazione. Io ti insegnerò a godere della vita, del vino e di te stessa. Con me il tuo corpo forte assaporerà il piacere di esistere e di saziarsi. Il tuo tatto conoscerà la seta e i ricchi ricami di Bruges. I tuoi occhi si lasceranno rapire dalle luci dei nostri pittori. Loro sì che ti faranno comprendere che cosa vuol dire veramente cantare il creato. Vedrai come i fili colorati di un arazzo possono assomigliare alla vita e raffigurarla. Mangerai in piatti ognuno dei quali è un'opera d'arte. Vedrai, Giovanna, che vita avrai con me. Dimenticherai i roghi dove bruciate i disgraziati che supponete eretici. Dimenticherai l'intolleranza del tuo casato. Ma devi circondarti dei nostri nobili, staccarti dalla corte che ti ha seguita e che non solo non comprende ma che diffida del nostro splendore. Mi aveva appoggiata la mano sul ventre e il suo indice girava attorno al mio ombelico come un cavaliere intorno al fosso di un castello. Allora lasciai che quell'uomo, al quale comunque ci si aspettava che mi sottomettessi, prendesse le redini della mia vita e mi mostrasse ciò che c'era dietro le ombre con cui la corte castigliana condannava il piacere. Quel giorno non mi permise di lasciare il letto. Si perse tra i miei capelli, mi alimentò con il suo seme, mi conobe come io stessa non avrei mai potuto conoscermi. La sera chiese vino, pane e frutta. Usò il mio sesso come fonte, ci mangiamo, ci mordemmo, non mi lasciò dormire perché disse che voleva vedere il sole del mattino splendere sulla mia pelle. E fu così che vedemmo sorgere il nuovo giorno, nudi, esausti e follemente felici. Abbracciai con lo sguardo la sagoma dell'abbazia all'alba. Il grigio delle mura sembrava un elemento liquido che fluiva nell'atmosfera nebbiosa di quel mattino dai colori tenui. Le monache con i loro abiti scuri in piedi sulla porta agitavano le mani in segno di saluto. Il cavallo di Filippo e il mio avanzavano alla testa del corteo. Poco prima di arrivare ad Anversa ci separammo perché Filippo doveva accompagnare sua sorella Margherita ad Arnhem, dove si sarebbe imbarcata per la Spagna. Margherita era venuta all'Ier per conoscermi e io mi ero presentata infagottata in una bianca e ampia camicia da notte perché mio marito, senza esitare e senza domandarsi se mi dispiaceva o no essere vista nell'intimità, l'aveva fatta entrare nella nostra camera. Pensai che lei avrebbe reso felice Giovanni come il fratello Margherita emanava vitalità ed energia. Il mio fragile fratellino non avrebbe dovuto fare altro che lasciarsi amare. Potevo immaginare che sorpresa sarebbe stata per lui andare incontro alla gioia di vivere degli austriaci e alla bionda bellezza di mia cognata. Le lettere che mi giunsero dalla Spagna dopo le loro nozze confermarono la mia intuizione. Giovanni, che aveva solo due anni più di me, si abbandonò appassionatamente al suo amore. Durante la cavalcata in direzione di Anversa in cui il mio sposo lodò le mie doti di cavallerizza, Filippo mi affiancò a colei che era stata la sua istitutrice, Jeanne de Comines, Madame de Halleven. Pensava, mi disse, che dovesse essere la mia dama d'onore poiché nessuno avrebbe potuto istruirmi meglio di lei nelle trame e negli intrighi della corte borgognona. Madame de Halleven portava un cappello a punta da cui scendeva un velo molto sottile. Il cappello, come tutto il suo abbigliamento, era l'ultima moda francese, cosa che mi fece provare per lei un pregiudizio immediato che cercai di schiacciare per non offenderla e per non dispiacere a Filippo. A prescindere dal suo vestire alla francese, però, Madame de Halleven aveva il vantaggio di parlare perfettamente lo spagnolo. Era una donna matura, con un volto molto bianco dai lineamenti angolosi e dagli occhi vivi di un verde polvere. La bocca larga e ben disegnata mitigava un po' la sua aria di angelo senza sesso. Mi dissi che dovevo conoscerla meglio e non abbandonarmi all'istinto. Se era stata l'istitutrice di Filippo e lui era ricco di fascino, quella donna doveva essere degna della mia amicizia e della mia fiducia. Mentre lei mi metteva al corrente dei festeggiamenti che si stavano organizzando a Bruxelles, Gande, Bruges e in altre città per celebrare le mie nozze, notai lo sguardo diffidente di Beatrice di Bobadilla che stava alla mia destra. Durante la prima pausa di riposo cercai l'occasione per avvicinarmi a lei e raccontarle le disposizioni di Filippo. «Avrò due dame d'onore», dissi. «Non rinuncerò alla tua compagnia. Non devi pensare nemmeno per un istante che questa madame potrà sostituirti nella mia fiducia o nel mio cuore. Devi stare molto attenta, Giovanna», mi disse. «Ho l'impressione che tuo marito voglia circondarti di fiamminghi, allontanando noi spagnoli dal tuo fianco. Non avverto niente di buono non farti accecare dall'amore». Non fu solo l'amore ad accecarmi. Nei mesi seguenti, gli abitanti delle Fiandre ricevettero Filippo e me con cortei gioiosi che riempivano le città. Le acclamazioni, i colori, l'allegria di quei festeggiamenti. Nonostante il cielo grigio e la pioggerellina che velava il paesaggio fiammingo, ravvivarono il mio sincero desiderio di adottare quel paese che ora mi apparteneva. La felicità della mia carne mi incitava ogni notte a ribellarmi alle usanze imposte dalla severità castigliana che imperavano nel mio seguito fedele a mia madre. Non mi opposi a che Filippo sostituisse un po' per volto ognuno di loro con dame e cavalieri di sua fiducia e quei costumi si adattavano meglio al nostro modo di vivere. E disattesi persino i miei obblighi verso coloro che, mettendo in pericolo la loro vita e servendomi fedelmente, mi avevano accompagnata nella rischiosa traversata dall'aredo alle Fiandre. Penso che esagerino quelli che dicono che furono migliaia i soldati che morirono di freddo quell'inverno, aspettando il tempo buono perché Margherita d'Austria potesse affrontare il mare. Comunque, si disse questo. Beatrice mi rimproverava, mi rimproverava anche il mio confessore Diego Ramirez teviglie scusa, che lamentava anche la mia mancanza di interesse per le pratiche religiose. Mi faceva perdere la pazienza, tanto era bigotto e severo, con le sue paternali, in cui accusava i miei sudditi di preoccuparsi più del buon bere che della virtù, come se mangiare e bere fossero piaceri proibiti o gesti peccaminosi. Mi dedicai a organizzare la mia casa secondo il protocollo Borgognone e in capo un anno mi erano rimasti soltanto 18 membri dei 98 del mio seguito spagnolo più intimo. Poiché non contavo su risorse mie, potevo fare poco per trattenerli. L'accordo matrimoniale stabiliva che Filippo dovesse mantenere la mia servitù e provvedere a tutte le mie necessità. Così era scritto. E dato che era lui a pagare, era lui a decidere chi doveva lavorare per noi. Beatrice si lamentava, diceva che faceva fatica a comprendere come i miei genitori avessero accettato un simile accordo. I nobili tornati in Spagna informarono i miei regali genitori che inviarono come ambasciatore frate Tomas de Matienzo. Attraverso le sue parole capii che mi incolpavano dell'esodo forzato della mia gente e che disapprovavano le mie azioni e il mio comportamento. A me l'indipendenza dava alla testa come un liquore caldo. Non mi rendevo conto che ero passata dalle mani dei miei genitori a quelle di mio marito. Nelle mani di Filippo non vedevo nient'altro che strumenti che mi accarezzavano e trovano musica dalle mie viscere. Era molto abile nel convincermi che le sue decisioni e le mie nascevano da un accordo comune. Quando consentivo ai suoi desideri sentivo che mi affermavo e che dimostravo la sovranità delle mie idee. Non avevo dubbi sul fatto che dovevo lealtà alla Spagna ma pensavo che avrei servito meglio gli interessi del mio paese se facevo in modo che i fiamminghi mi considerassero la loro sovrana e vedessero in me l'unità di intenti dei nostri rispettivi paesi. Credere che io potessi instaurare un'isola spagnola nelle Fiandre era un'idea assurda avulsa dalla realtà. Che i miei genitori non lo comprendessero e mandassero frate Tomas a redarguirmi mi addolorò e mi fece infuriare.